E' una storia di successo quella di questo signore elegante che alla fine degli anni 50, come tanti altri figli della guerra, salì su un treno diretto al nord con una valigia di speranze e che oggi è il titolare e direttore della più importante scuola italiana di taglio e cucito, quella che fornisce arti e stilisti alle maggiori griff della moda. Facevo anche due o tre lavori in un giorno, cioè facevo il fattorino, la sera vendevo giocattoli in peluche, nelle pasticcerie, facevo cameriere nei ristoranti, facevo due o tre lavori per simulare almeno 30.000 lire al mese, perché come fattorino guadagnavo circa 20.000 al mese, 9 li pagavo di pensione e con 11 dovevo viversi. Poi cercavano rappresentanti nei fratelli Fabra di Tori per vendere il conoscere e lì ho preso appunto a vendere l'enciclopedia. Per vendere l'enciclopedia trovai un salone grandissimo con tanti allievi, ci sono state 40-50 persone che frequentavano il corso di taglio e cucito, fanno questo corso e la signora mi disse guarda vengono a tutte le parti del bergamasco a fare questo corso perché sa, la ragazza prima di sposarsi deve fare un corso di economia domestica, di taglio, cucito e vedi seguito. E lì mi è saltata l'idea dicendo ma come vengono dalle valle nelle città di Bergamo, perché non si fanno i corsi nel loro paese stesso? Alla fine di ogni corso gli allievi presentano le loro produzioni. La scuola di Fernando Burgo diventa così un istituto di formazione professionale, aprirà la sua sede principale a Milano dove di trasloco o in trasloco, approderà nel 90 nella prestigiosa location di Piazza San Babila. Il metodo si avvale di due libri di testo dedicati alla tecnica sartoriale e a quella del disegno dei modelli. Mentre in San Babila si tengono le lezioni di teoria, i corsi pratici hanno sede in questo grande laboratorio di Piazza Santa Francesca Romana. Qui ogni tavolo da lavoro vede impegnati gruppi di sei, massimo otto studenti per ogni maestra. Di questo Fernando Burgo va particolarmente fiero. Il suo metodo prevede molte ore di pratica. Giano Versaci, ricordo quando era vivo, aveva un buon rapporto con lui, perché il suo compagno era un mio paesano di Mesagni, Antonio, e ricordo che lui consigliava sempre di riguardo a te, diceva Burgo, fare pratica sulla sartoria, se non lo stilista è come avere un braccio e le manca l'altro. Cioè se fa la sartoria riesce a capire il disegno, riesce a capire se un capo è realizzabile in stoffo oppure no. Se non fa sartoria sa solo disegno. Ciao, io sono Jenny. Io sono l'alumina dell'Istituto di Moda Burgo. È stato un honno di credere, di responsabile per la Burgo in Indonesia. Cosa è Burgo Method? Burgo Method è 80% fokussi sulla pratica, con un'applicazione personal, individual approach, personalizzate curriculum as well. And we teach using a famous book, Il Figuino e Il Modulismo, che è pubblicato da loro. Io sono benvenuti da questo metodo. Questo è davvero aiutato a rinforzare le talento in fashion che non ho mai capito che ha avuto, perché ho pensato che è solo a give le persone che possono avere le skilli in fashion. Allora, quando Mr. Burgo gave me the opportunity and trusted me to open Burgo, Indonesia, I'm very delightful. Il Fortunato di Fashion Freedom is our mission, why we bring Italian know-how, Burgo Method here to Indonesia. Because we would like to create a designer that have international level and able to compete in our own markets. Indonesia market is a very huge market, as Indonesia is the four biggest population in the world. By having our designers that can compete with all the international brands that come to our markets, we believe that Indonesia will be thriving as well in a creative industry that bring a lot of income to our country. Here they are! Hi everyone, I'm Kasia. I'm a Burgonian. The most surprising moment in my life itu sebenarnya banyak. Tapi yang menurut aku sangat bermakna bagi diri aku itu saat aku bisa keluar dari comfort zone aku. Karena menurut aku, aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi setelah aku keluar dari comfort zone aku. The most surprising thing for me as a Burgonian itu, jadi aku dari dulu tuh mau jadi fashion designer dari kelas tiga. Dan aku tuh orangnya kalau aku ingin satu hal aku akan kejar hal itu terus sampai aku dapetin. Tapi di sisi lain aku tuh orangnya nggak pedean. Jadi aku bakal berpikir aku bisa nggak ya aku sanggup. Atau kalau aku udah mendapatkan hal yang aku inginkan tapi ternyata banyak struggle, aku akan sanggup tidak menghadapi semua struggle itu. Nah singkat cerita aku masuk di Burgo. Entah kenapa aku merasa kalau aku belajar di Burgo, aku akan nyaman dan aku Burgo bisa meyakinkan aku bahwa semua orang tuh bisa jadi fashion designer. Nah seiringnya waktu, aku ternyata menghadapi struggle-struggle itu. Tapi entah kenapa aku tidak menganggap struggle-struggle itu tuh menjadi hal yang memberatkan aku, membuat aku stress, membuat aku pusing itu tidak. Tapi justru struggle-struggle itu bisa membawa dampak positif bagi diri aku. Contohnya seperti aku lebih produktif, lebih mandiri, aku mengetahui hal-hal baru. Dalam bidang fashion contohnya aku bisa gambar baju di figurin yang proporsional, bisa buat pola, jahit sampai jadi baju, dan aku bahkan bisa buat collection aku sendiri. Sebenarnya semua itu tuh sempat terpikirkan oleh aku, tapi aku tidak berpikir bahwa aku bisa melakukan itu semua sama seperti orang-orang di luar sana yang sudah sangat bertalenta. Tapi ternyata setelah aku melihat progres belajar aku selama di Burgo, aku menjadi optimis dan aku berpikir bahwa aku bisa menjadi seperti mereka. Dan itu membuat aku surprise dan aku kaget dan aku juga merasa aku bangga aku bisa meningkatkan skill, kemampuan aku di bidang fashion selama di Burgo. Nah dari situ mindset aku berubah. Yang tadi aku nggak pedean, aku selalu takut atau deg-degan. Jadi sekarang aku berpikir aku akan mengajarkan diri aku untuk merasa takut atau deg-degan karena aku belum tahu situasinya seperti apa. Tapi aku juga akan berpikir kalau aku sudah mulai dan mencoba, aku yakin aku pasti bisa. Dan dari situ aku juga selalu berpikir aku nggak akan pernah tahu aku bisa apa aja sebelum aku mencobanya. Jadi buat kalian yang belum memulai atau belum mencoba, aku yakin kalian pasti menemukan satu hal yang menurut kalian kalian belum bisa atau belum tahu tapi ternyata kalian bisa. So, suffice yourself! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!